Ad ogni sogno, il proprio palcoscenico. Prova a sognare in grande il Futsal Bitonto 2019, che nell'attesa di conoscere il proprio destino dagli organi competenti, intravede sempre più vicino il traguardo della Serie B. Un traguardo storico sia per la società nero-verde che per tutta la cittadinanza bitontina. Un traguardo tanto bello quanto ispirato ad un certo punto della stagione. O forse no. Quando i punti di ristacco dalla prima erano 4 e la capolista continuava a viaggiare a vele spiegate in campionato, in pochi avrebbero scommesso su un incredibile ribaltone in vetta alla classifica. Fra quei pochi, mister Pietro Di Bari, che durante un classico discorso alla squadra all'allenamento del lunedì, sprono ai suoi ragazzi a non mollare la presa e a credere ancora nel primato. Di lì a pochi mesi, infatti, le sue parole divennero in realtà la sera del 3 marzo, a 27 secondi dalla fine. Col bitonto che batte l'Andrea, sale in vetta alla classifica e manda in estasi tutto il palaborsellino. Quello stesso palaborsellino che per un suono grande come la serie B potrebbe non bastare più. Una categoria importante come quella che ormai si apprezzerà ad affrontare la compagine nero-verde meriterebbe il giusto palcoscenico, o perché no, magari un palazzetto. Una casa sportiva degna dei sogni e dei progetti di tutte le società che lo frequenterebbero. Una struttura dove i tifosi possono affollare il grado di nuove di zecca senza stare in piedi, per sostenere e supportare le varie realtà cittadine. Questione palazzetto, mossa in settimana anche dal team manager della società nero-verde Francesco Bancazzo, il quale ha ricordato come l'avere una struttura adeguata a piena disposizione delle varie società permette allo sviluppo delle ambizioni sia delle società stesse che di tutti gli atleti per i quali il palazzetto dello sport potrebbe rappresentare, come l'estate in passato, un trampolino di lancio per delle brillanti carriere sportive. Progetti a lungo termine, dunque, che possono attirare la curiosità e le intenzioni dei vari imprenditori locali ad investire in questi progetti, perché che sia fuzza, basket, volley o altro, ad ogni sogno deve corrispondere necessariamente il giusto palcoscenico.